Se è quello in ascensore, per cui non scherzare su queste cose e poi ti caracolla addosso l'imponderabile Per ora tra i due quello malato sei tu intanto, che non ha fatto il bacio Tra i due per ora, per ora, poi io per carità si mi ammalerò Per ora però, per ora però, hai fatti, per ora però, per ora però Quello che ha avuto problemi ai testicoli per esempio sono io, quello che ha avuto i testicoli Esatto, quindi, adesso stai bene, adesso stai bene e starai bene ancora lungo, quindi figurati Che mortacci tu, che male c'è, ho detto che stai bene Allora, abbiamo Marco da Milano e poi velocissimamente abbiamo un grande ospite, un grande ritorno È stato direttore dell'Espresso e adesso conduce su Rai 3 Ma figurati, buonasera direttore No, non sono io, non sono io, non sono io Allora, i nodi, i nodi finalmente stanno arrivando al pettine Finalmente i nodi stanno arrivando al pettine Io lo dico, io lo dico da anni, quello che dico da anni ormai si sta avverando e sulla bocca di tutti La testa del serpente lo dico da anni che sta a Londra E questo ormai è risaputo, dove la City è di proprietà del Vaticano Grazie all'accordo con i Gesù Il braccio sinistro invece sono i vostri tanto e caro amati USA, gli Stati Uniti d'America Tanto è vero che la famiglia reale settimana scorsa era a Davos a sciare E voi non avete proprietato parola Non avete detto mezza parola La famiglia reale settimana scorsa era a Davos No, no, io sono felice di questo Cosa c'è stato a Davos, come mai la famiglia reale in tutti i posti che possono andare nel mondo scorsa era a Davos Bellissimo a Davos, posso dirti una cosa Posso dirti una cosa Posso dirti una cosa No, faremo il rinuncio che adesso inizi a buttarla in cacciara I nodi stanno venendo al pettine Stanno venendo al pettine, ma per fortuna Si apriranno nel 2026 Sì, certo, certo Perché, come voi sapete, tutti i grandi imperi durano 250 anni Il grande imperi L'America, il conto alla rovescia per gli Stati Uniti è finito Non c'è nessun conto alla rovescia Funziona tutto L'impero dell'Italia L'impero dell'Italia è nato 4 luglio 1776 Ok, mancano praticamente tre anni alla fine dell'Oripero Ma dove l'hai letto questo? Dove l'hai letto questo? No, però la cosa interessante Sono studi Aspetta, sono studi Fammi capire Sono studi che fai tu da anni Ci informiamo su internet, certo Con un gruppo di persone Sei un povero idiota Se tu danni Se tu danni Studi Se tu danni Ti informi su internet E con altri imbecilli Con altri imbecilli Imbecilli Non c'è altra definizione Tant'è vero Tant'è vero Che adesso iniziano a darmi ragione Iniziano tutti a salire sul carro Iniziano tutti a salire sul carro Ma quale carro Di mortacci tu? Ma quale carro? Di quale carro parli? Certo Tutto è iniziato Tutto è iniziato Quando è uscito l'ultimo album di Beyoncé Ok? Che era il suo cavallo Cosa c'entra adesso? Cavallo Cosa c'entra? Che c'entra Beyoncé? Allora Beyoncé È risaputo da tutti Che è un'illuminata Questo lo sanno Lo sanno cani e mori Come si può dire No però io scusa Beyoncé certo Lo sanno tutti Tu sei partito dalla City Dalla City che è proprietà del Vaticano Hai detto che gli USA E il braccio sinistro Non so di che cosa La famiglia reale Che ha sciato a Davos La City che è di proprietà del Vaticano E questo nessuno può darmi contro Perché è risaputo Grazie alla cosa Non è di proprietà del Vaticano La City Non è di proprietà del Vaticano Sono il Vaticano Ma sono Ma solo la città del Vaticano È proprietà della City E proprio Sono loro i titolari proprietari Insomma di qualcosa Io non ce la faccio più Questo non lo dico Questo lo sanno Ma no Io cosa Cosa quando uno dice Non lo dico io Lo sanno veramente tutti Ma cosa gli vuoi dire Se non che questo qui È una povera Di certo Se voi ascoltate Le trasmissioni Che fa Parenzo Su A7 Nessuno dirà mai la verità No no Ma certo Che nessuno dirà Una cosa simile Ma per forza Ok Invitami in trasmissione Vediamo se è coraggio Una sera Invitami Ma non è Il giorno Posso garantirti questo Il giorno che tu Metterai piedi In un mio studio televisivo Vorrà dire Che io necessito Immediatamente Di un trattamento Sanitario obbligatorio E chiederò io E chiederò io Di essere Licenziato Immediatamente Dalla zia Immediatamente Perché vuol dire Che sono incapace Di intendere Di volere Io scommetto Io scommetto Che se dovessi portare I fogli Che noi studiamo Appunto Eccetera Quali fogli Dove li trovate Questi fogli Ma dove li trovate Ma non citarlo Neppure il dottore Ma ti immagini Che tu gli vai a dire Una cosa simile Grazie Marco Grazie 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 Grazie